Se il fatto, quando fosse consumato, restasse in sé conchiuso, tanto verrebbe consumarlo subito. Se l'assassinio, una volta compiuto, potesse intramagliare tutti i suoi effetti e finito, ghermire il suo obiettivo e questo solo colpo fosse l'inizio e la fine di tutto, qui, su quest'arida proda del tempo, noi rischieremmo la vita a venire. Ma sempre in questi casi andiamo incontro alla condanna eterna, che non facciamo che insegnare sangue e il sangue insegnato torna sempre a infettare colui che l'ha insegnato. Questa giustizia, alla mano equanime, ritorce sulle nostre stesse labbra, gli ingredienti che abbiamo misturato nel calice che abbiamo avvelenato. Egli si trova qui, sotto il mio tetto, protetto da una duplice fiducia. Primo, perché gli son parente e suddito, e son già questi due buoni motivi per cui io rifuggo dal compiere l'atto. secondo, perché, come suo ospitante, dovrei io stesso sbarrare l'ingresso a chiunque volesse assassinarlo, e non brandire io tra le mie mani il coltello che lo dovrebbe uccidere. E poi, questo Duncan, in verità, è stato un tal benevolo sovrano, dotato di un tal senso di giustizia nell'esercizio del suo alto ufficio, che arringherà per lui le sue virtù, come i tube celesti in bocca agli angeli, a chiederla più nera dannazione a chi avesse attentato alla sua vita. È una pietà, come un puttino nudo che cavalcasse in groppa all'uragano. E i cherubini del cielo, in arcione ai corsieri invisibili dell'etere, soffieranno negli occhi della gente così forte, l'orribile misfatto, che le lacrime affogheranno il vento. Altro sprone non ho da conficarne i fianchi al mio proposito, se non la volteggiante mia ambizione, che, nella smania di balzare in sella, rischia di male misurar lo slancio e andare a ricader dall'altra parte.